L vincitore dell'Isola dei Famosi 2022 esce allo scoperto con la compagna. Nicholas Vaporidis finalmente allo scoperto con la fidanzata Ali. Il trionfatore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi si era presentato single dell'Adventure Game di Canale 5, salvo poi ammettere di essere innamorato e fidanzato di una donna speciale conosciuta durante la sua permanenza in Inghilterra. L'attore romano, nel corso della sua avventura in Honduras ha tenuto a precisare di voler preservare il suo rapporto sentimentale nella massima riservatezza ammettendo però di provare un sentimento importante grazie al quale è riuscito a rinascere dalle ceneri di un divorzio che gli ha causato un grande dolore. Si chiama Ali ed è bionda, sono state le uniche parole di Nicholas e sui social non vi era alcuna tratta. Ieri, l'attore romano, ha sorpreso però tutti postando una foto sorridente con la fidanzata che ha deciso di mostrarsi sui social per la prima volta. Nicholas e Ali appaiono entrambi sorridenti. A fare sfondo un cielo azzurro.